Andalo Monte dei Paschi con il titolo ancora impicchiata in borsa fa salire la tensione tra governo e Banca Italia. La banca ci ha nascosto i documenti, diceva solo ieri via nazionale, mentre il ministro dell'economia Grilli dice il caso era noto da tempo e i controlli spettano alla Banca d'Italia. Parlando al forum economico di Davos, Mario Monti afferma confusione creata da evidenti ragioni, sottolineando che il governo e nella fattispecie il ministro dell'economia e delle finanze è disponibile a riferire in Parlamento. Da Siena a Roma però la tensione rimane alta. Oggi i vertici dell'istituto, Profumo e Viola, hanno riunito i dirigenti, un tentativo di serrare le fila e di evitare l'incubo di una fuga di clienti. Ma la situazione a Piazza Affari rimane incandescente, le azioni perdono oggi un altro 7% con scambi sempre forti. In meno di un'ora questa mattina era già passato di mano il 2% del capitale. Anche il capo dello Stato è entrato nel merito del caso MPS. È una questione grave e se ne sta occupando la Banca d'Italia, ha detto Giorgio Napolitano. Non sono esperto di banche ma se la questione è grave bisogna occuparsene ed io, ha dichiarato, ho piena fiducia nella Banca d'Italia. Un duro giaccusa al governo arriva dall'ex ministro dell'economia Giulio Tremonti che ad Agospia ha dichiarato il Montibond è stato riservato solo a Siena senza impegno a finanziare le piccole e medie imprese perché serviva ad altri scopi. Il governo Monti aggiunge, pur conoscendo la verità, l'ha nascosta al Parlamento. I problemi dell'asse sinistra neocentristi non finiscono qui. In queste ore sono volati gli stracci tra Monti e Bersani. Quest'ultimo ha fondato lasciare vendola per il professore se lo scordino. Poi sulla CGL, dopo gli attacchi del premier uscente, Bersani dice che sono sbagliati perché quando governi tutti i sindacati sono figli tuoi. Attribuire alla CGL, ha affermato l'eterodirezione del PD, è ridicolo e mi stupisco che una personalità come Monti vada dietro a cose insufflate. Dalla destra la CGL ha milioni di iscritti. I mercati sanno leggere e scrivere, sanno benissimo che io, se tocca a me, rispetterò i patti. Garantiremo il pareggio di bilancio al netto dei cicli e se ci saranno dei problemi li affronteremo. Così il segretario PD replica a Mario Monti che l'ho accusato di allarmare i mercati con discorsi sinistri.